Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questa domenica persisterà tanta instabilità da nord a sud per effetto di una bassa pressione piuttosto incisiva immobilizzata nel basso Mediterraneo, tra il basso Tirreno e il canale di Sicilia. Avremo ancora temporali diffusi a tratti di forti entità lungo le regioni tirreniche e anche al nord tra pomeriggio e sera un pochino più asciutto sul lato Adriatico, dove avremo ancora tante nubi, però anche qualche pausa asciutta e anche qualche momentaneo sprazzo di sole. In Abruzzo sarà un weekend comunque molto instabile, ci aspettiamo ancora instabilità concentrata nelle aree interne, quindi sui monti e sulle coline con possibilità di temporali localmente di forte entità, anche con qualche chicco di grandine, più variabile lungo le coste, qui avremo alternanza tra nubi, qualche schiarita e qualche rapido piovasco. Entro sera avremo una graduale cessazione dei fenomeni, temperature in leggero aumento, massime comunque non oltre i 18-19 gradi. Grazie per essere stati con noi, a tutti voi un buon fine settimana. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.